Ciao a tutti ragazzi qui è il vostro Art che vi parla, esattamente come è stato per Liberty Falls ecco qua il tutorial per quanto riguarda FireRound 100 e oltre sulla mappa Terminus se appunto vi siete persi i video su Liberty Falls ve lo lascio qui sotto in descrizione devo ammettere che purtroppo per come è stato Liberty Falls anche qua non è che le stats siano così interessanti o anzi principalmente la stat più utilizzata è soltanto una con qualche piccola variabile per quanto riguarda FireRound più alto possibile e inoltre devo ammettere che personalmente ho trovato questa mappa per quanto sulla carta più veloce una noia mortale tra pochissimo vedremo le problematiche di questa mappa per fare round alti ma se dovete fare soltanto la Dark Ops del 100 personalmente ancora una volta vi consiglio di gran lunga Liberty Falls sarà che c'è più libertà per quanto riguarda le strategie sarà che la jet gun secondo me è molto più forte della Beam Smasher tutte queste cose mi hanno fatto apprezzare molto di più le mie partite su Liberty Falls Terminus ancora una volta l'ho trovata molto noiosa non dico difficile ma comunque bisogna stare attenti a diverse cose il fastidio dei laceranti e in questo caso amalgama è tipo moltiplicato 10x lo vediamo tra pochissimo per quanto riguarda il setup come al solito vi consiglio del GS45 che potete comprare a muro direttamente nella First Room questa è la build come sempre ricordatevi di impostarla come build di zombie in aggiunta per potenziamenti da campo e perk vi mostro quelli che sono i miei potenziatori anche se in questo caso non è che siano totalmente essenziali per la state round un pochino più bassi utilizzo mini energia con appunto questi potenziatori mentre la round alta che si usa di solito a schermature etere conviene averci estensione con soltanto una carica partiamo da round bassi la cosa importante da fare è aprire tutta la mappa tranne questa porta che non è che sia totalmente essenziale a tenerla chiusa ma per quanto riguarda a fine round lo spawn dei laceranti permette di renderli un pochino più compatti e quindi rendere la tortura di ogni fine round di uccidere tutti i laceranti un pochino più gestibile in aggiunta va aperta la porta per la stanza dove si crafta anche la wonder weapon qua infatti è dove campereremo per il massimo spawn degli zombie piccola nota che voglio fare proprio per questa strata di camperare in questa stanza ci sono qui dentro due spawn e c'è teoricamente uno subito fuori da questa stanza è possibile cancellare quello spawn ed è quello che ho fatto in questa partita non so se è totalmente un bug non so se sarà patchato non so divina anche con precisione se il regolamento di certi siti come zombie world records permette di fare qualcosa del genere in ogni caso vi basta stare subito fuori dalla stanza di fianco appunto a questo spawn salvare e uscire dalla partita rientrare e per qualche motivo quello spawn si sarà annullato spumeranno tutti gli zombie soltanto dalle due finestre dentro la stanza dove si crafta la wonder weapon rendendo questa strategia molto molto veloce una volta che ci siamo decentemente setupati possiamo avere le nostre mustang possibilmente potenziate al massimo e vi consiglio di metterci sopra anche explosion al napalm per decimare i laceranti inoltre vi conviene dato che avete già aperto la porta e fa comodo averla fare anche la wonder weapon non penso sia necessario potenziarla al massimo però di solito la potenzio almeno all'uno e poi di conseguenza quando ho punti la potenzio al massimo phd flopper per essere immune alle mustang e possiamo finalmente camperare in questa stanza se volete con anche l'induttore di furia acceso e mina energia la strat molto stupidamente è sparare per terra utilizzando le mustang mina energia quando ce l'abbiamo carica e qualche kill streak qualche oggetto tattico e letale per i primi 30-35 round molto molto tranquillo vi ricordo che se serve qui vicino di fianco al jug c'è la cassa di munizioni è ancora un pochino più lontano sempre sulla destra c'è una postazione da lavoro che sarà fondamentale per i round un pochino più alti a questo punto quando non basta neanche per dire un instant o una nuke o in generale comunque le mustang non sono sufficienti per gestire il disastro che c'è qui dentro perché c'è uno spawn velocissimo possiamo dedicarci a quella che sarà la strat principale per tutta la partita e penso che per chi ha fatto round alti decentemente su black ops 6 ha già capito di cosa parlo iniezioni mutante elicottero d'assalto rcxt questa è la combo più devastante di questo gioco e purtroppo appunto non è che ci offre una varietà così gigantesca la cosa principale di solito è farsi droppare queste kill streak proprio da laceranti e come dicevo prima a fine round qua c'è veramente un delirio non so se sono più di liberty falls o è soltanto una sensazione ma alcuni fine round qua ci sono anche 10, 12, 15 laceranti è veramente un delirio cosa molto importante per usciterli veramente in fretta fate prima l'attacco secondario della wonder weapon che li stordisce e rallenta e poi sparate di mustang questo li rende molto lenti ma teoricamente prendono anche leggermente danno aggiuntivo e possono essere uccisi veramente in fretta sperate quindi che vi droppino una qualsiasi kill streak cosa molto probabile o altrimenti se avete già i materiali potete comprare direttamente dalla postazione da lavoro ma state attenti perché il guadagno per adesso di materiali non è che sia totalmente mostruoso quindi non andate in perdita fin da subito per le kill streak quelle che ci interessano di più sono elicottero d'assalto e iniezione mutante che fino tipo a round 50-60 possono pulire un round intero letteralmente a sforzo zero dopo la cosa diventa leggermente più complicata ma ancora una volta lo vediamo tra pochissimo per iniezione mutante potete utilizzarla nel fondo della stanza e soltanto a coltellare in modo che tutti quanti gli zombie escano dallo spawn e possano dropparvi anche dei materiali non andrete in guadagno mostruoso ma comunque è meglio recuperare qualcosina perché ogni materiale in questo game è importante per quanto riguarda invece l'elicottero possiamo posizionarci direttamente sulla porta e praticamente bloccare gli zombie in modo che non possono uscire e a questo punto sparare soltanto sull'entrata con l'elicottero stesso e devastarli questo darà veramente tanti materiali e come dicevo prima fino a round 50-60 è sufficiente a pulire un round intero con iniezione mutante con la tecnica di prima è principalmente per avere materiali e appunto fino a round 70 perfetta per finire un round anzi ogni tanto ci rimangono anche diversi secondi per uccidere qualche lacerante o simili attenzione come al solito che se li uccidete con una killstrick non possono dropparvi altre killstrick se invece siete a round leggermente più alto o siete in abbondanza di materiali potete fare una piccola variante che è letteralmente lo spawn kill più pesante mai visto nella storia di zombie possiamo metterci quindi davanti al buco dove spawnono gli zombie sparare un colpo verso la finestra e accoltellare sparare e accoltellare sparare accoltellare teoricamente questa cosa può pulire un round intero con una sola iniezione mutante fino al round 110-120 circa è dannatamente mostruosa e velocissima però come dicevo prima non verrà droppato nessun materiale perché tutti gli zombie moriranno prima ancora praticamente di essere spawnati in mappa quindi non possono lasciare nessun oggetto per quanto riguarda invece quello un pochino più complicato che sarebbe sulla carta il metodo migliore ma non sempre funziona al 100% vediamo adesso infatti l'RGXD questo teoricamente è una delle start principali che alcuni player stanno utilizzando per fare round veramente alti perché l'RGXD uccide bene ovviamente all'infinito e dura veramente tanto dobbiamo quindi salire su questi scaffali e posizionarci in questo modo che sto mostrando nel video e buttare l'RGXD ci posizioniamo in questo modo in modo che l'RGXD stia sopra appunto queste scatole e conviene metterlo dove c'è questo telo verde sopra la scatola davanti a sinistra perché noi come personaggio dobbiamo metterci in questo modo non è soltanto per dove buttiamo l'RGXD ma anche teoricamente per rallentare o bloccare che cercano di salire che sono l'unico piccolo ostacolo per l'RGXD capita infatti ogni tanto anche se siamo nel punto giusto che uno zombie corazzato possa passare e distruggerci l'RGXD il che è ovviamente un problema perché altrimenti la strat potrebbe andare avanti per molto più tempo questo è l'unico piccolo ostacolo se invece tutto quanto va bene o comunque vi esplode verso la fine non è un problema possiamo andare a comprare un altro in questi casi l'RGXD difficilmente farà tutto quanto in round perché questa strat per quanto efficace non è che sia velocissima rispetto al camperare direttamente dentro la stanza possiamo quindi fare teoricamente un giro di questa piazzola attivare la trappola stare un paio di secondi davanti al jug per far uccidere diversi zombie correre alla posizione da lavoro comprare RGXD o altro e tornare indietro con schermature etere per fare in modo di raccogliere tutti i materiali e andare appunto in guadagno rimetterci in posizione e far partire un altro RGXD questo sulla carta sarebbe la strat perfetta efficace all'infinito ma posso dirvi per i miei test personali che alcune cose ogni tanto vanno storto non sempre siamo in guadagno di materiali o generalmente questa strat è una noia mortale come tante altre che si basano soltanto sulle killstreak io ho fatto questo 100 utilizzando principalmente l'iniezione mutante perché a un certo punto ero in buon guadagno di materiali i laceranti molto spesso me lo droppavano ho utilizzato appunto anche elicotteri RGXD tutto quanto è possibile quello che posso dire è stare veramente molto molto attenti agli amalgama perché possono shottarvi ai round alti per quanto Treyarch avesse detto che fosse una cosa non voluta e che sarebbe stata appacciata non mi sembra che sia così speriamo in un aggiornamento futuro altra cosa ogni tanto i laceranti come dicevo prima nel video sono veramente veramente tanti e posso dirvi che quando avete 12 laceranti davanti che vi colpiscono diventa un attimo ingestibile abusate della wonder weapon abusate anche della trappola che contro amalgama ai laceranti è molto molto efficace anche se purtroppo ha un tempo di ricarica veramente molto molto lungo ma il suo posizionamento è davvero ottimo in questa zona piccola nota per quanto riguarda i round speciali campionati dentro la stanza sparate alla finestra round finito molto easy qui ragazzi questo è tutto il possibile che io so per quanto riguarda la mappa terminus e la possibilità di fare i round come ho accennato più volte ritengo questa strat abbastanza noiosa e per quanto sulla carta molto più veloce anche di liberty falls il problema laceranti e amalgama permane per veramente molto molto tempo ed è alquanto fastidioso consiglio ancora una volta liberty falls se è per la dark ops o per fare round alti in generale e qua sono sicuro che magari più avanti con delle patch alcune strat potrebbero cambiare ciò non toglie che sulla carta per quanto l'rcxd sia la strat perfetta un pochino anche come è su liberty falls non è davvero efficace al 100% ogni tanto non funziona non siamo messi correttamente e comunque non è che tutti quanti apprezzino una strat in cui si sta letteralmente fermi tutto il tempo a fissare una macchinina fatemi quindi sapere ragazzi le vostre opinioni per quanto riguarda questa strat e spero di conseguenza che il tutorial vi sia piaciuto e vi sia stato utile ci vediamo quindi a un prossimo video un abbraccio ala un abbraccio